Area sempre più tesa nel Vallo di Diano dopo l'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina, quello di Lago Negro. La rottura è ormai netta anche tra gli stessi componenti dell'Ordine Forense Salese, tant'è che questa mattina il Comitato Pro Tribunale, composto non solo da amministratori e semplici cittadini, ma anche e soprattutto da avvocati, ha divulgato una lettera aperta indirizzata al Presidente e ai consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Sala Consilina. Abbiamo intrapreso una difficile ed impegnativa battaglia in difesa del nostro Tribunale, si legge nel documento, consapevoli dell'indifferenza della politica e dell'arroganza del Sindaco di Lago Negro e non solo. Non ci saremmo però mai aspettati, hanno evidenziato i difensori del Foro di Giustizia Salese, di non vedervi alle nostre riunioni, di non vedervi protagonisti attivi alle manifestazioni di protesta. Abbiamo rischiato e protestato senza di voi, continua il documento, quando per altri tribunali soppressi gli avvocati e consiglieri degli ordini erano e sono in prima fila a prendersi denunce e botte. Non comprendiamo perché non solidarizzate con noi e con tanti avvocati che ancora lottano e resistono e vi mostrate invece disponibili da comodanti verso le illegalità, le irregolarità, gli atteggiamenti arroganti ed offensivi del Sindaco e degli Avvocati di Lago Negro. Il Comitato, nel documento inoltre, chiede all'Ordine quali siano le ragioni che li spingono a non consentire ai cittadini e ai giornalisti di partecipare alle assemblee degli avvocati. Il Tribunale non è una vostra proprietà della quale potete disporre liberamente un bene che appartiene alla collettività salese del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Si legge infine nel documento ed i cittadini hanno pieno titolo a decidere insieme ogni utile strategia per rimettere in discussione la soppressione del presidio giudiziario. Intanto, dall'altro lato, a Lago Negro, il Sindaco Domenico Mitidieri non nasconde il suo orgoglio per essere riuscito non solo a tutelare il Tribunale che insiste sul suo comune, ma addirittura ad ampliarlo. Non possiamo che essere soddisfatti, ha detto il primo cittadino. Lago Negro ne trarrà solo benefici e dai colloqui che ho avuto recentemente con i commercianti e gli imprenditori già si iniziano a vedere i primi segnali. La nostra economia non potrà che crescere. Alle accuse che in queste settimane gli sono state rivolte dai valdianesi, il Sindaco Mitidieri risponde con diplomazia. Non è il Sindaco a legiferare, ha detto. Noi ci siamo attenuti a ciò che ha detto il Ministero e al Decreto Legislativo 155-2012. Abbiamo fatto in modo che l'attività giudiziaria potesse svolgersi regolarmente. Ora, ha concluso il Sindaco, stiamo andando avanti per la nostra strada con impegno e determinazione e a breve anche il secondo lotto funzionale sarà ultimato.